Nuvola, il nuovo corso di letture per le classi quarte e quinte della scuola primaria, basato sulla didattica dei percorsi. Inclusivo, formativo, coinvolgente, multimediale, operativo. Nuvola, perché questo titolo? Perché l'apprendimento, proprio come una nuvola, deve essere leggero per coinvolgere e alto per aiutare a salire nel cielo delle conoscenze. Da lì scenderanno le gocce di pioggia che nutriranno il terreno delle competenze. Qual è il progetto didattico di questo corso? Questo corso si fonda sulla didattica dei percorsi per sviluppare l'insegnamento dalle abilità e conoscenze all'acquisizione di competenze. Quali sono questi percorsi? Uno per l'acquisizione di abilità e conoscenze. Nel libro dei percorsi d'italiano sviluppa le abilità di leggere, comprendere, riassumere e scrivere. Nel libro della riflessione linguistica invita a riflettere sulla lingua attraverso la grammatica esplicita, introdotta da elementi di grammatica funzionale e valenziale. L'altro percorso riguarda l'acquisizione di competenze. Nel libro di lettura, l'analisi delle tipologie testuali si alterna a un'antologia di letture su argomenti vicini agli interessi degli alunni. Nel libro dei linguaggi espressivi, un originale percorso stimola e valorizza le differenti intelligenze degli alunni. C'è la verifica delle competenze? C'è di più! Il volume traguardo competenze. Un percorso programmato che segue lo schema delle competenze del quadro europeo per presentare veri compiti di realtà e attuare l'apprendimento cooperativo. Come posso insegnare ai miei alunni a imparare ad imparare? Attraverso il metodo di insegnamento-apprendimento fondato sulla lettura critica, sull'apprendimento cooperativo, sui compiti di realtà, sul CLIL con brevissimi dialoghi in L2, sulla conoscenza acquisita attraverso la scoperta personale e sul piacere della lettura. E per i bambini con BES e DSA? La didattica inclusiva è attuata attraverso l'uso di un carattere ad alta leggibilità utilizzato in alcune attività. Gli esercizi sono contrassegnati con un colore differente per indicare il grado di difficoltà. Sono presenti mappe riassuntive, anche interattive, da proporre come strumenti compensativi. Il volume Facilmente, interamente in Leggimi, segue i contenuti dei libri di lettura e dei percorsi di italiano, adattandoli e semplificandoli. Nuvola Il nuovo corso di letture per le classi quarte e quinte della scuola primaria.